Uscita con il CAI Comelico. Montelastroni, metri 2449 sul livello del mare. Gruppo del Rinaldo. Nella ricorrenza del centesimo anno dell'inizio del conflitto mondiale, il Montelastroni è una cima che presenta numerose opere militari, create come prima linea nella difesa del territorio. Dalla sua cima il panorama si presenta spettacolare sulle sottostanti valli, dalle sorgenti del piave alla Val Bisdende, alla Carnia. Partenza da Sappada, metri 1240, per il sentiero delle Cascatelle, quindi sentiero CAI numero 185, si risale fino a collegarsi con la pista da sci, Sappada 2000, transgiungendo il punto panoramico in località Miravalle, a metri 1543. Si continua a salire lungo la linea della seggiovia fino ad incrociare il sentiero naturalistico numero 4. Lo si percorre in direzione del Monte Piana andando ad immettersi sul sentiero CAI numero 138. Si percorre quest'ultimo passando per le casere Dolbe e gli omonimi laghetti a metri 2156. Dai laghetti si prosegue sullo stesso sentiero verso il Monte Lastroni, il ritorno per lo stesso itinerario di salita fino ai laghetti Dolbe, poi per il sentiero CAI numero 135 si scende lungo la pista di Sappada 2000. Tempo di percorrenza ore 7 per un dislivello di metri 1250 circa. Buona visione e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.